Cari amici di Visione TV, benvenuti a una nostra nuova intervista, ho il piacere di presentarvi l'ospite in collegamento con noi oggi, c'è Sandy Volk, ciao Sandy, presidente di un sindacato che si chiama CLPT. Buongiorno, nel coordinamento dei lavoratori portuali Trieste. Bene, intanto ci spieghi quando nasce questo coordinamento e in che occasioni? Il coordinamento è nato nel 2014 sulla constatazione che i sindacati che c'erano non tutelavano gli interessi dei lavoratori. È nato da lavoratori portuali, è composto da lavoratori portuali e tutti i suoi rappresentanti sono i lavoratori portuali attivi che lavorano attivamente in porto, non c'è nessun funzionario in pratica. Nel corso degli anni, a partire dal 2014, il CLPT è stato il motore di tutte le conquiste che ci sono state, di tutte le battaglie, mobilizzazioni che sono state in porto a Trieste, portando a diversi risultati, riduzione della precarietà, soluzioni, regolamentazione migliore del lavoro, anche qualcosa sulla sicurezza, anche se non tanto. Diciamo che è stata un po' la ripresa di attività e di presenza dei lavoratori nel mondo portuale, nel mondo del lavoro nel porto. Durante lo scorso anno, quando ci fu quella importante protesta, qual era la posizione del vostro CLPT? Il CLPT è stato fin dall'inizio tra i pochi che si è preoccupato seriamente della questione Covid e della prevenzione. Sulla questione del Green Pass però ha avuto una posizione nettamente contraria. Il CLPT in genere decide le cose da fare in assemblea. L'assemblea dei lavoratori portuali ha deciso che dopo che per un anno e mezzo avevano lavorato senza alcuna misura di protezione e sicurezza ridicole, chiedere ai lavoratori di pagarsi i tamponi o di vaccinarsi o cose del genere era inaccettabile. Per cui hanno deciso che se il 15 ottobre fosse entrato in vigore il decreto che istituiva il Green Pass per lavorare, non avrebbero lavorato. La proposta dei lavoratori è stata una controproposta che era quella di fare i tamponi a chiunque entrasse in porto, non solo ai lavoratori, non solo ai non vaccinati, ma a chiunque entrasse in porto. Nel porto non ci sono solo i lavoratori portuali ci sono i camionisti, ci sono i marittimi, c'è un sacco di gente che va per altri motivi nel porto di Trieste per affari e cose del genere. L'unica misura che vedevamo come è, avevamo assolutamente ragione, come misura seria di prevenzione era quella di fare i tamponi a chiunque, a gratis naturalmente, cosa che non è stata accettata, per cui dal 15 ottobre il porto si è fermato, non si è fermato per blocchi che impedivano alla gente di entrare, ma per il fatto che i lavoratori non sono andati a lavorare. Questo ha avuto come ripercussione la vendetta da parte delle aziende che da lungo tempo volevano levarsi dalle scatole il CLPT, che prima l'autorità portuale ha disconosciuto un protocollo che avevamo fermato sulla rappresentatività con loro, appigliandosi a delle cose abbastanza inventate, dopodiché le aziende, senza però comunicare nulla di, formalmente non hanno mai comunicato la cosa al CLPT, hanno deciso, l'abbiamo saputo dalla stampa, di non riconoscerci più come rappresentativi e di non fare più nemmeno le trattenute sindacali al CLPT. Quindi nessun diritto sindacale, nessuna convocazione e nessuna trattenuta. Che rapporti avevate con Stefano Puzzer, che è stato il volto più visibile di quella stagione di protesta? Stefano Puzzer è ancora uno di noi, Stefano Puzzer è stato a lungo presidente, poi vicepresidente e comunque la persona probabilmente più nota, è più attiva e più conosciuta del CLPT. Per questo Stefano Puzzer hanno cercato di farlo fuori diverse volte, sono arrivati a mettergli la cocaina nelle urine, quando ha fatto le prove annuali che vengono fatte per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti. Interessante questo, chi avrebbe provato a incastrarlo? Avete delle prove voi in merito? Noi sappiamo che un dirigente di una delle più grosse aziende del porto di Trieste, che è la Trieste Marine Terminal, è stato condannato per favoreggiamento. Rispetto a questa storia? Esattamente, esattamente. Questo è successo nel 2017. Per favoreggiamento di cosa? Nel 2017 ancora le proteste erano lontane, Puzzer non era conosciuto. Hanno condannato questo dirigente per favoreggiamento. Ma favoreggiamento rispetto a cosa? Non ha voluto rivelare chi gli aveva comunicato che il test dell'eurina di Stefano Puzzer risultava positivo. No, ma quello che io non capisco è che nel 2017, quando ancora le proteste erano lontane, perché Stefano Puzzer doveva già allora essere nel mirino di qualcuno? Perché, come ho detto prima, il CLPT è stata la cosa che ha ridato centralità ai lavoratori in porto. Ah, quindi è stata la vostra scelta di diventare autonomi sul piano sindacale, che ha azionato delle ritorsioni. Esatto, esatto. Il CLPT è quello che ha portato a tutta una serie di contratti, di regolamenti, di assunzioni, di regolarizzazioni. Tutto cose che mettevano in discussione il diritto assoluto, che esisteva precedentemente e che adesso sta tornando, delle aziende di fare quello che volevano. Stefano ha cercato nel 2017 e poi nel 2020 si è trovato, dopo che, quando era andato a lavorare nella mattinata, pomeriggio, aveva chiesto che si era rifiutato, insieme ad altri colleghi, di salire sui mezzi, se questi non venivano sanificati. Alla sera, quando è tornato a casa, si è trovato un GPS attaccato sotto la macchina. Evidentemente stavano cercando, perché poi hanno utilizzato i GPS e agenzie di investigazione per licenziare diversi lavoratori, dopo le proteste. Evidentemente la stessa cosa stavano cercando di fare con Stefano, solo che lui se ne è accorto subito e quindi hanno probabilmente dovuto smettere. Dopodiché gli hanno anche manomesso lo sterzo della macchina, qualche mese più tardi. Stefano era da lungo tempo che era nel mirino delle aziende del porto di Trieste, forse anche non solo, per cui poi il suo licenziamento è stato una cosa che era ricercata da tempo. Adesso qual è la situazione nel porto di Trieste? Adesso la situazione è tornata molto indietro, le aziende sono tornate a fare quello che vogliono, i lavoratori vengono, c'è un clima di terrorismo, anche perché nessuno ha detto niente, assolutamente nessuno della cosiddetta opinione pubblica, democratica o meno, ha detto assolutamente niente su quello che accadeva in porto, sui licenziamenti, sulle sospensioni, sulle rappresaglie varie che hanno fatto. Le aziende stanno continuando a praticare questo genere di terrorismo sulla gente, addirittura minacciando qualcuno di non rompere le scatole, perché hanno visto cosa succede a chi rompe le scatole, intendendo i licenziamenti. hanno creato questo clima anche licenziando Stefano e altri lavoratori, tra cui anche il nostro ex presidente. Lo scopo era chiarissimo, creare tra i lavoratori un clima di paura, in modo che se ne stessero buoni, accettassero tutto quello che volevano le aziende. Questo ha portato, tra l'altro, il risultato di questo tipo di clima e gestione e anche il morto che qualche giorno fa in porto, un collega portuale è morto, saprete, praticamente cadendo in mare con un muletto, e si sono accorti della sua scomparsa, diciamo, dopo due ore, sono riusciti poi a ripescarlo, ma ormai era troppo tardi. Questi sono i risultati della situazione attuale in porto, che dopo le manifestazioni dell'ottobre del 2021 hanno visto le rappresaglie sistematiche e la vendetta sistematica da parte delle aziende contro dei lavoratori che avevano semplicemente, e avevano assolutamente ragione, e oggi si dimostra tanto più che avevano ragione, erano gli unici che chiedevano l'applicazione di misure serie di prevenzione, in qualche maniera efficaci, e per questo il rispetto della loro dignità, del diritto al lavoro, e di tutte queste cose, e per questo adesso sono sottoposti a rappresaglie e cose del genere. Quali sono le aziende che si stanno distinguendo per condotta antisindacale, in particolare? Ma penso siano un po' tutte, non è neanche poi una novità. Ma dico, i gestori del porto di Trieste, in particolare, come si stanno comportando? Puoi ricordare chi è che gestisce il porto di Trieste, la movimentazione? Il porto è amministrato dall'autorità portuale di Trieste. Poi dentro ci sono una serie di grosse aziende terminaliste, che sono la TMT, Trieste Marine Terminal, che è di proprietà della MSC, che è la più grossa compagnia di navigazione a livello mondiale. Che è la stessa che gestisce il porto di Gioia Tauro, da dove ti parliamo noi, se non ricordo mai. Sì, potrebbe essere. Poi c'è la Summer, che è di proprietà in pratica di FDS, che è anche un'altra grossa compagnia di navigazione e di gestione di terminal danese. E poi ci sono la HHLA PLT, che è in pratica il porto di Hamburgo, che sta gestendo quello che è l'ultimo terminal, che è la piattaforma logistica di Trieste. Queste sono le più grosse. Poi c'è una miriade di altre aziende che più o meno lavorano per queste, in maniera più o meno regolare. Diciamo, se queste ultime non si sono mai distinte per regolarità di trattamento dei lavoratori, queste altre aziende, i terminalisti, quello che ho citato prima, se fino alla presenza massiccia, diciamo, fino all'ottobre, diciamo, sì, erano in qualche maniera adeguate e avevano un'interlocuzione anche con il CLPT, che era il maggior sindacato nel porto di Trieste, e probabilmente l'avevano tuttora. Da quel momento in avanti sono tornate alla mano libera, diciamo. Per cui ci sono, diciamo, vessazioni, minacce, dispetti più o meno grandi, ci sono state anche tutta una serie di licenziamenti legati o meno, diciamo, alle manifestazioni. Quindi tu ci stai dicendo c'è un clima di ritorzione da parte degli imprenditori contro quei lavoratori che hanno deciso di essere protagonisti di un sindacato non asservito come CLPT. Ci sono dei casi specifici? Tu puoi dimostrare questa affermazione? Cosa fanno? Chi e perché tu leghi l'adesione a CLPT a delle ritorsioni di natura lavorativa? Allora, se andiamo a vedere chi è stato licenziato in conseguenza della... anche se loro negano che sia in conseguenza, ma è chiaro che è in conseguenza delle manifestazioni, se andiamo a vedere chi è stato licenziato in conseguenza di quelle manifestazioni, sono quasi esclusivamente lavoratori del CLPT e lavoratori significativi del CLPT. Stefano Puzzer, il nostro ex... poi il nostro ex presidente, quello che è stato dopo Stefano, presidente del CLPT, e lavoratori iscritti o vicini al CLPT. Al CLPT, come ho detto, hanno tolto senza alcuna spiegazione la rappresentatività, senza neanche comunicarlo, non ci convocano poi al tavolo, non rispondono alle nostre comunicazioni e non fanno le trattenute sindacali a tempo indeterminato, perché queste cose, diciamo, in qualche regolamentazione dei rapporti sindacali ci sono delle misure nel caso vengano violati le regole nei rapporti sindacali. Però questo è a tempo indeterminato, cioè in pratica il CLPT è stato messo fuori legge in qualche maniera. Noi abbiamo fatto adesso una causa diciamo in via d'urgenza contro una di queste aziende che è l'Agenzia per il lavoro portuale di Trieste, che è l'azienda dove lavora Stefano, che ha licenziato Stefano, proprio per questo motivo, perché avevano ripreso i tavoli di contrattazione per il contratto di secondo livello, che tra l'altro era stata avviata da noi dicendo il contratto precedente, siamo stati gli unici a farlo nel tempo giusto, senza convocarci. E quindi per questo motivo noi abbiamo fatto questa causa in via d'urgenza per riavere tutti i diritti sindacali in quell'azienda, compresa quello di stare ai tavoli e compreso quello di avere le trattate. Abbiamo avuto come risposta una sentenza che secondo me è, diciamo, fra il scandaloso e l'allibente, perché il giudice ha ricettato il ricorso motivando la cosa col fatto che noi non avremmo dimostrato la nostra rappresentatività in quell'azienda. Ora, noi abbiamo allegato al nostro ricorso 71 schede di iscrizione al CLPT di dipendenti di quell'azienda. Non sappiamo in che altra maniera si può dimostrare la rappresentatività oltre al fatto dell'adesione dei lavoratori. Tieni conto che quell'azienda ha circa 200 dipendenti, qualcosa di più. Noi abbiamo allegato 71 schede di iscrizione. Credo che noi avevamo più iscritti di tutte le altre organizzazioni sindacali messe insieme. Il giudice ha affermato che quelle schede di iscrizione su cui sta chiaramente scritto che sono valide fino a disdetta scritta, quindi finché non c'è la disdetta quell'iscrizione è valida. Il giudice ha motivato la cosa dicendo che è vero che abbiamo presentato quelle schede di iscrizione, però si può ritenere che dopo le manifestazioni il nostro consenso da parte dei lavoratori è notevolmente calato. In base a cosa lui arguisca questa cosa non è chiaro perché da quanto ci risulta è vero che qualcuno ha fatto la disdetta però è anche vero che qualcuno in più si è iscritto in quel periodo al Cilettino. E poi ha fatto un'altra cosa ha motivato ancora in una maniera dicendo che è vero che ci sono quelle schede di iscrizione sono però vecchie e il fatto che l'azienda non abbia fatto le trattenute per oltre un anno senza che i lavoratori abbiano chiesto all'azienda di continuare a fare le trattenute da questo si può arguire che quei lavoratori non volevano più far parte del CLPT. Tieni presente che l'azienda non ha mai comunicato alcunché né al CLPT né ai singoli lavoratori e non ha mai neanche risposto al CLPT quando ha scritto dell'azienda per chiedere di avere un incontro o chiarimenti su le intenzioni dell'azienda riguardo ai rapporti con il CLPT. Quindi il giudice in pratica ha deciso che è a completa discrezione delle aziende considerare o no le schede di iscrizione come un segnale di iscrizione a una certa organizzazione sindacale. Io non so se le altre organizzazioni sindacali si rendono conto che se questa cosa passa anche la loro rappresentatività è completamente in mano alle aziende che possono addirittura decidere se le schede di iscrizione che gli vengono mandate sono valide o meno. Io credo che una roba del genere più allucinante di questa io sinceramente non so come immaginarmela. Purtroppo non è il primo caso in cui la magistratura triestina ci lascia quella del lavoro ci lascia allibiti perché ci sono state sentenze in cui ci sono stati giudici che hanno motivato diciamo il rigetto di istanze da parte dei lavoratori dicendo per esempio che per quanto riguarda le ferie le buste paga non sono sufficienti e non fanno titolo per dimostrare che non hai avuto le ferie che ti aspettavano ovvero aziende che nonostante ovvero magistrati pubblici ministeri in questo caso che hanno chiesto la soluzione di un'azienda che era stata indagata e portata a processo per sfruttamento del lavoro la legge è quella che è stata creata per diciamo contrastare il sfruttamento della manodopera nei campi di pomodoro dei migrati e cose del genere nonostante la guardia di finanza che ha svolto l'indagine avesse diciamo motivato molto dettagliatamente il perché e per come quell'azienda era responsabile di quel tipo di reato il pubblico ministero ha chiesto nonostante questo la soluzione siamo preoccupati anche perché è lo stesso pubblico ministero che in questo momento ha in mano le indagini per la morte del collega ultimo che è morto a Trieste qualche giorno fa siamo molto preoccupati di quello che potrebbe essere l'esito di quelle indagini non vorremmo che come al solito perché è già successo con l'incidente che c'è stato nel 2019 con un altro morto l'unico responsabile l'unico condannato anche se per fortuna pochi mesi è stato il lavoratore che ha investito senza alcuna colpa da parte sua questo il lavoratore che è morto ecco queste cose vorremmo che finissero quindi gli altri sindacati non hanno espresso nessun tipo di solidarietà nei vostri confronti anzi forse tutto sommato vivono come dei pericolosi concorrenti ma gli altri sindacati sì sicuramente e gli altri sindacati qualche maniera hanno dato addirittura una mano alle aziende perché evidentemente il CLPT rompeva un po' le scatole anche a loro non hanno aperto bocca sui licenziamenti di nessuno né di Stefano né di altri anche se conoscono e conoscevano e conoscono molto bene Stefano è quello che ha fatto nel porto di Trieste come non l'hanno fatto per gli altri licenziati hanno al massimo hanno espresso solidarietà umana sappiamo anche che hanno diciamo cercato di buttare acqua sul fuoco delle reazioni dei lavoratori che ci sono state rispetto ai licenziamenti naturalmente contrarie ai licenziamenti diciamo invitandoli a non fare nulla e diciamo gli sta più o meno bene insomma che il CNPT si cerchi di farlo sparire insomma perché l'obiettivo è quello insomma anche la magistratura gli sta dando una mano tirando per le lunghe perché ci sono in ballo anche i ricorsi anche di Stefano e a Stefano aveva penso la prima udienza l'ha avuta adesso al gennaio e la seconda udienza è stata fissata a luglio per il suo ricorso contro il licenziamento quindi sì è una situazione che sinceramente io ho un po' d'anni ma una cosa del genere in cui succedevano rappresaglie di tutti i tipi sui lavoratori e senza che nessuno intervenisse noi abbiamo anche fatto all'epoca ancora gennaio dell'altro anno una conferenza stampa sulle rappresaglie che stavano venendo in porto a cui abbiamo invitato tutte le forze politiche che sono presenti in regione e in comune non si è presentato assolutamente nessuno questo ti dà l'idea di quello che è l'allineamento totale in più abbiamo anche i media che vengono a sapere delle sentenze e dei provvedimenti da parte delle aziende quasi prima degli interessati del CLPT o dei lavoratori e che dopo il 21 ottobre hanno scatenato una io non ho mai visto una cosa del genere neanche contro le brigate rosse sinceramente una campagna diciamo concentrica di forze politiche media ma tutti media proprio contro i lavoratori portuali e contro il CLPT in cui mancava poco che ci accusassero anche di aver assassinato Kennedy insomma io sinceramente non ho mai visto una cosa del genere noi nella conferenza stampa che abbiamo fatto ancora a gennaio dell'anno passato avevamo parlato e a questo punto lo ribadiamo di sospensione della democrazia nel porto di Trieste perché in effetti nel porto di Trieste i lavoratori non hanno più diritti quello che era stato conquistato per esempio anche sulla sicurezza si sta tornando indietro perché gli ispettori portuali sono stati praticamente invitati a farsi affari loro gli uffici che seguono gli avviamenti al lavoro nel porto i dati che raccolgono non servono assolutamente a nulla anche se dimostrano irregolarità e quindi è una situazione veramente allucinante che non portava che portare anche alla morte di quel collega purtroppo però sinceramente noi ce l'aspettavamo perché gli incidenti forse un caso forse no dopo che ci hanno colto la rappresentatività mettiamola così guarda caso ci sono stati una caterva di incidenti alcuni dei quali solo per fortuna non hanno avuto esiti anche mortali e poi si è arrivato a questo incidente noi questa cosa purtroppo almeno parlo a livello personale era chiaro che prima o dopo ci scappava il morto nel porto di Trieste la cosa forse più assurda è che il giorno prima della morte del nostro collega noi avevamo scritto all'autorità portuale e anche ai media chiedendo che venisse applicata una normativa su quello che è l'autoproduzione cioè il fatto che le navi facciano col proprio personale attività che in genere dovrebbero essere fatte dai operatori portuali normativa che ha anche scopi diciamo di tutela della sicurezza e della salute la risposta del presidente dell'autorità portuale d'Agostino è stata che noi avevamo anche indicato una serie di cose irregolari che avvenivano è stata che loro al termine nel summer stanno applicando un'ordinanza che è venuta fuori dopo il precedente morto e che in fondo cosa avevamo noi visto che c'è una sentenza che dice che non siamo rappresentativi ecco questo è il tipo di atteggiamento noi è dal 2020 che stiamo chiedendo misure serie a tutela della salute questo è l'atteggiamento che abbiamo avuto di fronte dalla primavera del 2020 in avanti non so non so più cosa dire sinceramente sono abbastanza allucinato di quello che stava in mente la classe politica locale o alcune forze politiche nazionali si sono occupate del vostro caso avete ricevuto solidarietà parte noi di democrazia sovrana popolare che ribadiamo pieno sostegno alle vostre istanze ma diciamo altri si sono occupati di questa vicenda guarda durante nei mesi seguenti diciamo nel 2022 inizio la prima parte del 2022 ci sono state un paio di interrogazioni parlamentari fatte su quello che sta succedendo nel Porto di Trieste da deputati di alternativa credo all'epoca erano di alternativa però a livello locale nessuno ha mosso un dito un dito e non ha detto una parola su quello che avveniva quindi ti dico c'è stato la messa al bando in pratica del CLPT che evidentemente non sta dentro quelle che sono le compatibilità di questi signori insomma della classe politica locale anche se alcuni c'è la cosa più assurda è che a settembre del 21 cioè un mese prima quasi un mese prima esattamente credo fosse il 14 noi abbiamo fatto un convegno su una questione che ci sta particolarmente a cuore che è l'applicazione dell'allegato ottavo del trattato di pace che tuttora è stato ricepito diciamo anche nella legislazione italiana quella allegato dice che il porto di Trieste è un porto libero internazionale con diciamo è esente da tasse l'attività nel porto di Trieste anche industriale e una serie di altre cose su questa cosa noi abbiamo insistito molto nel corso degli anni e in settembre del 2021 abbiamo fatto il terzo convegno su questo tema invitando tutti diciamo rappresentanti di tutte le forze politiche presenti al consiglio regionale al consiglio comunale il sindaco l'autorità portuale e quant'altri ed era bellissimo vedere come tutti dicessero quanto siamo bravi a portare avanti questa richiesta e come fosse giusta quella richiesta e come bisognasse assolutamente mettere in pratica quello che chiedevamo un mese dopo siamo diventati il diavolo e siamo diventati quelli che diffondevano il covid siamo diventati i barbari cioè siamo diventati di tutto e tutti non si sono mai più fatti sentire diventati inarraggiungibili avevano tutti altri tipi di cose da fare erano sempre impegnatissimi quindi il CRPT diciamo è stato ripeto è una specie di sì messa al bando una cosa del genere però dico nonostante questo continuiamo ad avere gli iscritti continuiamo a fare attività sindacale nei limiti che possiamo fare consegnare se c'è qualcuno che fa sinalazioni su sicurezza rispetto di contratti e cose del genere siamo noi per il porto di Trieste e di Moffalcone e se succede qualcosa qualcosa è diciamo anche se ci hanno bandito diciamo alcune misure che sono state prese per esempio a Moffalcone per quel che riguarda la sicurezza sono state prese solo per il nostro intervento mentre le altre organizzazioni sindacali non abbiamo ben capito che cosa stiano facendo senti Sani ti faccio le ultime due domande prima di lasciarti andare avete fatto ricorso rispetto a questo pronunciamento del tribunale si lo facciamo lo presenteremo abbiamo tempo ancora qualche giorno lo stiamo facendo sicuramente lo faremo però faremo anche posso fumare fuma fuma certamente sì qui possiamo parlare prego possiamo parlare libertà faremo ricorso facciamo anche giovedì a Trieste una conferenza stampa su questa vicenda e sulla vicenda purtroppo che non possiamo non affrontare della sicurezza del lavoro nel porto sulla vicenda della nostra rappresentatività e sulla sicurezza del lavoro nel porto e continueremo vogliamo che questa cosa sulla rappresentatività proprio per la gravità delle motivazioni che sono state adotte dal giudice questa cosa vogliamo riuscire a darle un risalto nazionale se non riusciamo ad avere alcun riscontro da parte della politica locale su questa cosa evidentemente gli va bene evidentemente gli va bene che sia così e continueremo a farlo insomma faremo il ricorso vedremo come va il ricorso e poi una volta ha fatto questa cosa vedremo tutti i passi che dobbiamo fare per tutelare quello che è un diritto insomma di qualsiasi persona a organizzarsi sindacalmente come meglio gli pare e a tutelare i propri diritti sul lavoro nella maniera che meglio ritiene sempre appunto nel rispetto di quella che è la legalità noi continueremo ad esserci insomma non abbiamo nessuna intenzione di mollare tanto più che visto che le condizioni nel porto di Trieste stanno peggiorando insomma notevolmente ti faccio un'ultima domanda questa situazione di sospensione dei diritti fondamentali al porto di Trieste è legata secondo te anche al clima di guerra generale cioè è un porto quello come dire decisivo per gli assetti geopolitici dell'Europa e magari è un segnale da considerare anche in relazione al cambiamento del quadro complessivo cioè vogliono dare un messaggio lì per farvi capire che non è il momento di scherzare considerata la delicatezza del momento sì sicuramente sono convinto di questo io credo che la manifestazione del 15 16 17 18 ottobre ma soprattutto i primi due giorni hanno dimostrato che i lavoratori sono in grado di fermare il porto di Trieste su rivendicazioni che erano giuste riteniamo giuste e si sta dimostrando ogni giorno più giuste e corrette e questa cosa credo che abbia impensierito molti anche perché fai conto che dal porto di Trieste credo passi l'80% del petrolio che arriva in Germania quindi è un porto che più che per l'Italia è probabilmente importante per l'Austria Germania Ungheria altri paesi e lo scopo è stato quello di disciplinare i lavoratori del porto di Trieste in modo che diciamo in qualsiasi caso il porto funzioni tieni anche presente che proprio forse per questo caso questo fatto dell'importanza per la Germania e l'Austria nel porto di Trieste nel caso la guerra si estendesse sarebbe un obiettivo probabilmente primario da colpire per la Russia o chi o chi altro insomma quindi io credo che è tutto un clima perché riguarda noi ma riguarda anche altre realtà sindacali in giro per l'Italia anche se la cosa è forse come il caso nostro insomma queste cose non finiscono nei media mainstream io credo che sia in atto sì anche un tentativo di disciplinamento dei lavoratori in generale e quelli del porto di Trieste in particolare anche per esigenze eventuali belliche per non avere quello che si chiama il fronte interno diciamo e quindi è una misura preventiva in qualche maniera probabilmente bene grazie Sandi noi continueremo a seguire la vicenda dei lavoratori di Trieste che non devono essere abbandonati dalla pubblica opinione anche perché hanno rappresentato una vanguardia di resistenza in uno dei momenti più difficili della nostra storia recente grazie ancora grazie a voi e arrivederci cari amici di Visione TV finisce qui questa nostra puntata se volete aiutare il nostro canale donata i numeri che la regia ha mandato adesso in sopra in pressione potete abbonarvi sul nostro sito www.visionetv.it rimanete in collegamento con me direttamente iscrivendovi al nostro canale telegram abbiamo bisogno del vostro aiuto per dare forza alla candidatura di Andrea Zocca presidente della regione Friuli Venezia Giulia in ogni comune del Friuli Venezia Giulia troverete i moduli per firmare e consentirci così di essere presenti alle prossime elezioni regionali grazie ancora Buona giornata